Potrebbe essere stato l'ultimo consiglio provinciale per Raffaele Vito Farese quello di oggi sul raddoppio della tratta Apice-Orsara in cui è stato tra l'altro chiamato a relazionare rispetto agli aspetti urbanistici del primo lotto funzionale Apice-Stazione Erpinia. Domani infatti è l'ultimo giorno utile per il sindaco di Conza della Campania Vito Cappiello per ritirare le dimissioni. Ma secondo Farese non ci sono i margini minimi per andare avanti, non c'è stato modo di mettere ordine nelle questioni e non nasconde il suo rammarico. Credo che ormai i margini siano proprio minimi. Non abbiamo avuto occasione di mettere in ordine le questioni che in tutta sincerità non ho ancora percepito in tutto e per tutto. È un peccato, c'è il rammarico ovviamente e anche un po' di preoccupazione nella cittadinanza. Però ci sono incidenti di percorso come questi che si supera guardando avanti e lasciando indietro insomma quello che è stato. Dunque salvo colpi di scena e chiarimenti dell'ultimo momento l'amministrazione di Conza della Campania decadrà e decadrà anche il ruolo da consigliere provinciale di Farese. Al suo posto dovrebbe subentrare il sindaco di Montecalvo, Mirko Iorillo. Grazie. Grazie.